È iniziata oggi questa quattro giorni di sport in Darsena, che cosa succederà in questi quattro giorni? In questi quattro giorni quello che succede è che la Darsena prende vita, perché praticamente abbiamo 35-36 classi delle scuole, dalla primaria fino alle superiori, che vengono la mattina a provare sport. Quindi è un momento di grossa cultura sportiva, nella quale per esempio si va dalla ginestica ritmica al rugby, dal parkour alla pallavolo al calcio, insomma è una bella panoramica per i ragazzi e credo che per loro sia preziosa. Mentre la domenica ci aspettiamo che poi tutti i bambini vengano con i genitori per provare in un modo un pochino più approfondito e più tranquillo. Il pomeriggio è un momento di spettacolo, cioè è la parte in cui lo sport fa un suo lavoro meraviglioso. È il momento in cui le squadre sportive giovanili di tutte le società fanno piccole competizioni sportive. È il momento in cui un po' si può far vedere il meglio, un po' si può far vedere la propria passione. Vi dico che cosa succede nella parte esterale. Oggi, giovedì, la parte esterale è un momento di raccolta fondi per AGEOP, AIRC e l'associazione Diabetici Ravennate, ovvero diabete e oncologia. Facciamo questo evento per raccogliere fondo per loro. L'evento consiste in quattro sport. Ogni sport fa un triangolare, cioè ci sono o tre atleti o tre squadre. Una deve vincere, hanno 20-25 minuti per farlo. Le quattro sport sono scherma, arrampicata, basket e il beach tennis. E venite con un po' di soldi nel portafoglio, perché la manifestazione funzionerà se riusciamo a raccogliere fondi davvero. Altrimenti, diciamo, potevamo non farlo. Perché il Circolo Velico organizza Sport in Darsena? Perché la Darsena è lo spazio di scambio, è il porto oggettivamente della città. Il Circolo Velico da tanti anni porta avanti una campagna per fare in modo che a Ravenna tutti quanti riusciamo a ricordarci che siamo una città di mare. Non credo che ci possa essere uno spazio migliore di quello della Darsena, cioè di un porto, un punto di contatto fra la terra e il mare, per poter promuovere, diciamo, questa vicinanza al mare della città. Siamo qua per animare la Darsena, fare in modo che quante più persone possibili facciano sport e siamo qua per fare in modo che la città domani sia un po' migliore. Sport in Darsena è nato l'anno scorso, nel 2014, grazie all'iniziativa dell'assessorato alla partecipazione e dell'assessorato allo sport in preparazione di Ravenna 2016. Crediamo sia stata un'intuizione molto bella, si sono attivati una serie di tavoli molto propositivi dalla quale è uscita questa manifestazione. Con il Comune ci stiamo preparando per il 2016, quindi quest'anno vedrete tante cose, ci sono tanti esperimenti che sono fatti pensando a un 2016 grandioso. Siateci, sostenete la manifestazione, venite e a domani.